Ciao ragazzi, ben ritrovati su Dracula Origin Purtroppo non vi ho potuto far vedere questo puzzle risolto perché nel mentre giocavo mi si è sbloccato quindi abbiamo aperto questo canico Bene, bene, la felicità mia nell'essere in una cripta E' lo scheletro di una donna morta da molto tempo un vampiro a giudicare dai canini E' lo scheletro... Sì, l'hai già detto Qui che abbiamo Moana 12176 Moana Pozzi Dei numeri scritti col sangue Vediamo 12176 Questa donna si chiamava Moana Ho capito Ho capito Qui c'è Moana Pozzi Amico mio Mio fedele discepolo Spero solo che tu non abbia dovuto vedere Mina tra le braccia di quel mostro Io spero tanto di sì Mi serve qualcos'altro Che dobbiamo fargli a stomo? Vuoi vedere che? Vuoi vedere che? Gli occhiali di Ark Povero amico mio Che c'entrano gli occhiali? Amico Riposa in pace A me Ragazzi Che c'è qua? Gli ha piantellato Il diario di Ark Il mio valoroso discepolo Gli ha piantellato qualcosa C'è paletto nel cuore Oggi scrivere mi è difficile A chi lo dite a registrare? Cos'è questo dolore insopportabile Che paralizza le mie membra? Ho conati di nausea Risento la pelle del viso così tesa Che pare sul punto di rompersi Mi sembra Ci sono Sono maledetto Mi sono appena toccato il collo E le due piccole ferite Non lasciano dubbi Su quanto mi è accaduto I miei ricordi di ciò Che è avvenuto ieri sera Sono confusi Attendevo il conte Dracula Per sfiorarlo Ma un'ombra Che mi seguiva Incessantemente Mi si è avventata con Una creatura infernale Pensavo di essere in grado Di difendermi Ma nonostante la sua bellezza E fragilità La sua forza era incredibile Rideva mentre mi condannava All'inferno Con la forza dei suoi canini Mi vergogno a dire Che ho provato Una grande estasi stanotte Io Venuto per combattere il male Ho provato piacere Nella mia stessa sconfitta Nonostante la forza Che mi spinge A bere sangue Umane Umano Scusate Non riesco a decidermi A compiere Questo atto atroce Il sangue Delle creature Della foresta Placa il mio dolore Fino a quando Sarò in grado Di resistere Devo combattere Con tutta la forza Della mia mente E prendere precauzioni Per non commettere Una follia irreparabile Dietro l'impulso Della fame Il mio In che lunga è sta cosa Il mio iniziatore Dai capelli neri Dracula si parla Mi ha riferito Gli ordini Del mio nuovo padrone Cominciare La classificazione Delle opere Della biblioteca Devono credere Che io sia uno di loro Ma la mia anima Continua a resistere Al richiamo Dell'oscurità Di certo In questa biblioteca Sono costuditi I segreti Della mia maledizione Ho scoperto Un'opera Che menziona Un antico manufatto Pelor Lo scudo del sole L'origine Di questo scudo Pare risalire Ad un'antica Civiltà pagana Ciò nonostante L'opera in questione Conferma Le sue origini sacre E lo descrive Come simbolo Della fede cristiana In un antico ordine Cavallerisco Un libro più recente Scritto due secoli fa Da un sacerdote Pare indicare La Transilvania Come l'ultima regione In cui fu visto Un cavaliere Portare tale scudo È possibile Che lo scudo Si trovi proprio Nel covo Della bestia Nello stesso libro Si afferma Che è stata creata Una moltitudine Di scudi Ispirati A quest'arma Leggendaria E che perciò Sarebbe difficile Riconoscere L'origine Quindi Dopo sta ramanzina Vediamo Un poco Riposa in pace Si Qualcuno si sarà fatto Un Questi sono gli spuntini Sarà senz'altro Di Dracula Devo distruggerla Tu non distrugge Un bel niente Caro Però Apriremo La bara E non c'è E lui Non c'è Non c'è Perché È andato via Bene Quest'altra Bara Di chi è Questo scheletro È antichissimo E che canini Un'altra donna Ilone Stal C'è De E le porno Divea Dracula Riesco a leggere Il numero 8954 Scritto col sangue Il nome Di questa donna Morta È Ilona Ho detto Ragazzi Che le porno Star C'ha Dracula Niente Niente che mi possa servire Niente niente Siamo sicuri Che non c'è null'altro Ho visto una manina Ho visto una manina Giù Ecco Un trattato Di cavalleria Forse Harker Ha trovato qualcosa Di utile In questo libro Ok Ma per ora Noi ce ne freghiamo E andremo qui Tupe Già Siamo stati Questa splendida Fanciulla Si chiamava Ilona Moana Così si chiamava Questa donna Ok Qui Qui sta Questo ritratto E qui Questo razzo In cui abbiamo trovato Uno dei cavalieri Ha un nastro rosa Sul braccio Un nastro rosa E il simbolo Del E il simbolo Di blood Questo dipinto È diverso Dagli altri ritratti Questa giovane Sprizza Allegria E felicità Però Guardando qui Qualcuno Ha cancellato Il polso destro Della giovane Noi abbiamo Gli occhiali Adesso Vediamo Da vicino Nelle tracce Di pittura Vedo che la vernice Era di color Rosa Acceso Quindi Quindi Io direi Di provare A dare Del sangue Alla vampira Che Molto Con questo sangue Posso attirare la bestia Ma devo prima trovare Una fonte di luce Per distruggerla Anche qui È estremamente massiccia Non c'è modo Di forzarla Ho capito Documenti Rapporti Dialoghi Dunque Dunque Lui diceva Ragazzi Io intanto Dico Che fa freddo Che per Aprire La serratura Cioè La combinazione Dell'armeria Cioè Lui ci dava Queste informazioni Tre volte Le notti Di luna Piena Più due volte Le notti Di luna Rossa Non ho capito Più due volte Le notti Di luna Rossa Più cinque volte Le notti Senza Luna Di 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 luna Questa cosa ci diceva? Indietro, demonio! Che la redenzione di Cristo sia la mia salvezza! Un uomo maturo come te deve essere molto stanco. Io posso offrirti il riposo eterno. Ci diceva che aveva passato delle notti... 5.777 notti. Quindi ora io prenderò la calcolatrice. Andrò qui dove c'è questa cosa. Questo enorme lucchetto mi impedisce di aprire l'armeria. E penso che taglierò un attimino per cercare questa combinazione con le notti passate da Dracula con queste fanciulle. Vediamo un po'. Perfetto. Ci avevo tutto. Questa cotta di maglie è troppo grande per me, ma la prendo comunque. Lo scudo. Questi scudi sono tutti simili. Ma certo! Il collezionista è in cerca di Pelor, lo scudo del sole. Lo scudo di cui si parlava appunto prima. Scusate, io intanto rispondo pure ai messaggi. Faccio 600.000 cose in una volta. Sì, va bene, d'accordo. Certamente va. Eh, perfetto. Quindi... Non ci posso credere. Dai, che è sta cosa? Niente. Vabbè. Quindi... Quindi... Non ci posso credere. No, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Quindi... Vabbè. Sì, si. Ovvè. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Grazie a tutti Grazie a tutti Non volevo farvi rimanere qua Sei mesi e mezzo Per questa cosa brutta 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 Oh signore Perché devo prendere paura così Quindi ora Noi potremo Fare in questo modo Perché dobbiamo uccidere tutti questi buoni vampiri Mi chiedo io Ma faccia da Da Stupidino che c'ha Vanessa Povera così bella Maledetto L'autofia Diglielo E renderò la tua breve esistenza un inferno nel quale soppidante di quanto tu possa immaginare La tua anima non troverà mai pace Pure mi chiamano in questo momento ma noi ce ne spiegheremo Mo Il grasso potrebbe servirmi Lo prendo Certo È terribile È bibile come dico io È tebibile Sarà senz'altro di Dracula Devo distruggerla Perfetto Libro curioso Panels Incurioso Chissà cosa potrei aprire con questa La porta di Dratham Secondo me Non vorrei dire Casino facciamo Un quadro che ritrae Giada quando era ancora umana Si chiamava Giada Damer Povera ragazza Che è sta Giada ma? Giada Giada è Giada No Non ci riesco Papà cosa? Cos'è? È una chitarra? È una chitarra? Va bene Allora proviamo a usare la chiave Qua Il rituale è iniziato Mina è sottomessa al potere del demonio Dietro la nube formata dalle anime condannate In attesa di fare ritorno sulla terra Devo raggiungerla Questa nuve di spiriti Mi sa che ci siamo persi qualcosa ragazzi Mi sa che ci siamo persi qualcosa Una palestra E' l'arma perfetta Dannazione Gli manca la corda Le corde di questo mandolino sono in buone condizioni Tutta testa Con questo posso tagliare una delle corde Che soddisfazione Io lui l'odio ma Sono soddisfatta Allora Un'immensa libreria Questa libreria si muove Potrei spingerla Ma il meccanismo sembra bloccato Noi abbiamo l'olio Il grasso Perfetto Spingi la libreria Caro Non so per quale motivo Ma Si muove Una porta E allora Questa statua è fatta interamente di metallo Mi serve qualcos'altro Per cosa Vanessa Cosa vorresti fare C'è il temporale L'acqua Questo può condurre elettricità Questo può condurre elettricità Prima di affrontare Dracula Devo trovare l'unica arma in grado di annientarlo Sì ma non ho capito Questa statua è fatta interamente di metallo Il pavimento è umido e carico di elettricità Devo attendere qualcosa che mi aiuti a passare Perfetto Andiamo dal mio amore che sta facendo il suo rito su mina Andiamo Prima di affrontare Dracula No C'è un culo È accrocio Prima di affrontare Mettiamo il dardo Nella balestra Usiamo la balestra Oddio Però non lo uccide Vero Cacchio ci ho pensato ora Amore Quanto sei buono Tu fai schifo Amore No No Ma figlio di una grandissima zoccola Romeo Nina Professor No Posso anche togliermi gli occhiali penso Siete voi Sono molto contenta di rivedervi Maffanculo Però come siete ridotto Avanti datemi il cappotto Qualcosa da bere? Molto piacere Vedete con questo tempo mi ci vuole proprio qualcosa di caldo Però aspettate Restate accanto al fuoco Ancora per qualche minuto Sì Ragazzi Non è morto Il mio amore non è morto Van Helsing ha fatto tutta sta faticaccia di Non mi ricordo più 18 puntate E il mio amore È sopravvissuto A quello stronzetto Molto bene ragazzi Che dire È finito anche questo gioco Chissà che Cominceremo il Dracula 2 Oppure ne cominceremo uno nuovo Proprio nuovo nuovo di zecca Non lo so ancora Non lo so ancora Perché avrei due cosettine Ancora da fare Quindi vi consiglio di rimanere Con l'occhio ben aperto sul mio canale Grazie a tutti per aver seguito Dracula Origin Un bacio da Melix Game Pollice in su E al prossimo gioco Ciao Ciao